Conferenza stampa congiunta dei gruppi di Forza Italia Abruzzo Futuro per denunciare le gravi carenze del bilancio regionale. Per le minoranze di centrodestra il bilancio presentato dalla maggioranza certifica la fine del governo d'Alfonso, più attento agli annunci che alle vere emergenze dell'Abruzzo. Ad elencare le priorità dell'agenda regionale è il presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo. Non si danno risposte, soprattutto si persevera nell'annuncio del nulla. Ci era stato detto che c'erano i 50 milioni per le province per intervenire sull'edilizia scolastica che sono stati tolti alla discarica di bussi e avete visto quello che è successo, nel senso che il ministero ha bocciato quel progetto, quindi i 50 milioni devono tornare sulla discarica di bussi. Sul turismo non c'è alcun progetto e purtroppo i dati sono sempre negativi. Ci sono le richieste del mondo imprenditoriale, commercianti, artigiani, della piccola e media aziende che sono poi il sostegno di questa nostra regione e non c'è data alcuna risposta. Il vicepresidente Gatti parla invece di una giunta che naviga senza un approdo e definisce questo bilancio come la chiusura dell'esperienza di centrosinistra. Sono 43 mesi che governa il centrosinistra in questa regione, senza una rotta e quindi senza un approdo, senza che noi e i cittadini abruzzesi si possa sapere che regione intendono riconsegnare gli abruzzesi. Non è mai stata fatta una lista delle priorità, non c'è stato mai un pensiero chiaro sulla sanità, sui trasporti, cosa deve fare il pubblico, cosa deve fare il privato. Sulle politiche del lavoro ci si limita a commentare i dati dell'Istat, ma non si fanno bandi, progetti, non ci sono idee, iniziative, sulla sicurezza del territorio, sulle politiche turistiche. Insomma, io credo, non vorrei essere ingeneroso, che siano stati 43 mesi perduti. Penso che stia per calare il sipario su questo quadriennio del centrosinistra in Abruzzo. Sullo stesso tema, il capogruppo di Abruzzo Futuro, Mauro Di Dalmazio, che definisce grave per la nostra regione non aver agganciato la ripresa nazionale. L'Abruzzo, in un contesto generale di ripresa ciclica, di ripresa economica ciclica, l'Abruzzo non ha agganciato per come doveva essere questa ripresa, tant'è che i dati sono assolutamente in controtendenza, comunque sono inferiori a quelli di altri territori. E quindi questo è un giudizio. Le politiche non sono state sufficienti, l'azione non è stata sufficiente su ciò che è stato fatto. Per quanto riguarda la programmazione, è una programmazione anche qui abbastanza settica, abbastanza poco chiara e soprattutto senza indicazioni quali siano gli obiettivi che si intendono perseguire, quali sia la strada che si intende portare avanti, per cui rimane solo uno strumento tecnico allo Stato che poco aggiunge e che quindi non lascia intravedere veramente la via della ripresa.